Namaskaram, Sadhguru. Gli indiani non conoscono la grandezza di questa cultura. Come far tornare l'orgoglio, Sadhguru? Penso che una cosa che dobbiamo fare sia scrivere una, riscrivere una storia più responsabile su ciò che è accaduto in questa terra per molto tempo. Non negli ultimi 3.000 anni, non negli ultimi 1.400 anni. Quindi, ciò che le persone in questa terra hanno fatto per molto tempo deve essere riportato alla luce. In altri paesi lo stanno studiando. Se vai... Ci sono dei libanesi? Se studi in una scuola in Libano, leggerai di come manovali indiani, scultori indiani, elefanti indiani, yogi indiani, arrivarono e costruirono un tempio fenicio 4.300 anni fa, in Libano, che si chiama Balbek. Ed è un tempio fenomenale. 4.300 anni fa, alcune delle pietre di fondazione pesano più di 300 tonnellate e non c'era granito in Libano. Lo trasportarono direttamente dall'Egitto, attraverso il canale e su per la montagna. Poi lo misero lassù. Elefanti, manovali e scultori indiani ci lavorarono. La prova? Ci sono prove in sufficienza, ma una prova sta appesa lì, in modo visibile. I fiori di loto sul soffitto. Lo scultore indiano deve mettere un fiore di loto ovunque vada. Uno scultore libanese, dove avrebbe visto un fiore di loto? Chiaramente non ci sono fiori di loto lì. Quindi, quanti bambini indiani, dimentica i bambini, quanti adulti indiani ne hanno sentito parlare? No? I retami l'andarono a costruire Angkor Thom e Angkor Wat in Cambogia. Angkor Thom è il più grande edificio religioso su questo pianeta. La complessità e l'ingegneria, il semplice progetto e l'ingegneria con cui sono costruiti questi templi, se vai a vederli, ti sentirai orgoglioso di essere umano. Perché, se gli esseri umani hanno potuto pensare qualcosa del genere mille anni fa e manifestarlo, è troppo. Questo è stato fatto da Eretami, la maggior parte del lavoro svolto probabilmente da manovalanza Tamil. Dalla prima elementare ai 16 anni, qualche bambino Tamil ha mai letto una riga su questo nel suo libro di storia? No. Leggiamo solo di come siamo stati conquistati, violentati, saccheggiati, picchiati da altre persone. Allora, se non c'è orgoglio, perché vorresti ricrearlo? Devi capire questo. Una cultura o una nazione è solo un'idea. Quando gli esseri umani la assumono in quanto identità, ci attaccano un po' di orgoglio, brucia nella mente e nel cuore di una persona, allora la vuole proteggere, innalzare, mantenerla pulita, mantenerla meravigliosa. Se non ci metti dell'orgoglio, allora le persone vorranno evitarla. Tutti vorranno evitarla. Ora, qualunque cosa pensi abbia più successo nel mondo, vorrà imitare quello. Oggi la nostra idea di successo è diventata puramente economica, non estetica. Non diamo valore all'intelligenza, non diamo valore alla saggezza, non diamo valore alla bellezza o all'estetica, non diamo valore alle conquiste spirituali. Chi è l'uomo più grande di Coimbatore? Se lo chiedo, la gente menzionerà solo l'uomo più ricco della città. Non menzioneranno l'uomo più saggio della città, l'uomo più bello della città, l'uomo più meditativo della città. No, l'uomo più ricco della città è l'uomo più grande. Quindi, chi è il più grande è qualcosa, qualunque sia la nazione più ricca, la cultura più ricca. Il potere e il denaro sono diventati gli obiettivi più grandi, il che di per sé è un modo molto rudimentale di guardare la vita. A causa di ciò, al momento, ho promesso ai meditatori americani che nei prossimi due anni investirò molto tempo negli Stati Uniti. Perché? Consapevolmente o inconsapevolmente hanno assunto la leadership nel mondo. Nel senso che, vedi, se tutti gli americani indossano abiti da lavoro blu, metà del mondo indossa abiti da lavoro americani. Vai in qualsiasi città, Mumbai o Chennai o Bangalore in particolare, guardi sotto le ginocchia. Più del 60% indossa denim blu. Quando abbiamo le trame più intricate, ci sono più di 120 trame nel paese che sono uniche e molti di esse stanno morendo. Nessun'altra cultura sul pianeta possiede la varietà di trame che possiede l'India. Moriranno tutte. La seta cinese le ucciderà, a meno che voi donne non facciate che almeno il 20% del vostro guardaroba sia composto da tessuti indiani fatti a mano. Svaneranno tutti nei prossimi 10-15 anni. Perché tutti indossano neanche gli abiti dei dirigenti americani, gli abiti degli operai americani? Come se non bastasse, se loro si strappano i pantaloni, tutti si strappano i pantaloni. Sì, è tutto strappato, ma in modo molto costoso. Ora, se gli americani mettono l'anidride carbonica in una bottiglia e la bevono, anche un bambino dell'asilo sa che il corpo umano ha bisogno di ossigeno, non di anidride carbonica. Ma siccome l'America beve anidride carbonica e dice questa è la cosa vera, più della metà del mondo beve anidride carbonica oggi, sai, acqua gasata. Se vai in uno dei villaggi remoti qui, potrebbero esserci persone, forse non in questa zona, ma in qualsiasi altro posto, se vai, potrebbero non aver sentito la parola yoga, ma sanno che cos'è la Coca-Cola. ok? Quindi, ho pensato, se gli americani si strappano i pantaloni, tutti se li strappano. Gli americani portano i pantaloni abbassati sul fondo schiena, tutti fanno la stessa cosa. Gli americani bevono anidride carbonica, tutti fanno così. Ho pensato, se riusciamo a far meditare l'America, il mondo mediterà. Quindi, stiamo dando un po' una grande spinta nei prossimi due anni negli Stati Uniti. Vogliamo che l'America mediti. In qualche modo, si stanno preparando. Sono stanchi dell'acqua gassata. Grazie a tutti.